Ieri abbiamo concluso un importante contratto con una ditta nazionale che fornirà respiratori, ne abbiamo già presi 320, questi qui saranno destinati domani mattina nelle regioni Emilia-Romagna il numero di 174, Lombardia 90 e Piemonte 56. Abbiamo anche acquisito attraverso questa ditta la disponibilità a fornire con una produzione di 500 pezzi al mese, 2.000 complessivamente ventilatori polmonari e quindi andremo a potenziare l'offerta che le regioni, le dotazioni che le regioni hanno messo in campo.